Salve a tutti ragazzi, ben tornati qui con Andro e Ruben su Minecraft Modalita Survival. Oggi sono da solo, senza nessuno. E quindi, ci sono dei promessi che dovevo crearmi un po' di materiali. Oh cazzo, mi sono dimenticato di crearli e ragazzi io taglio questa parte perché sennò tutta questa parte di crafting di sicuro a voi non piacerà. Quindi ci sentiamo un pochino più tardi. Ok ragazzi, ci sono! Possiamo fare quella epica costruzione. Però mi serve dello spazio. E io qui non vedo molto spazio. Mi servirà tanto spazio per fare questa costruzione epica. Che tu non sai cos'è! Se vi chiedete perché l'ho detto così, perché non c'è nessuno. Sto parlando con un omino. Con se stesso. Ecco, si fa sentire. Lui che non voleva farsi intervistare, alla fine parla! No, sono con Roberto oggi. Anzi, alias Robertinho. Allora, facciamo quella costruzione epica che mi ero ripromesso di fare nell'episodio scorso. Allora, tap! Mettiti. Oh no, aspetta qui non mi piace. Allora, lo mettiamo qui. Lo mettiamo qui. Allora, tu, 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 tu. Ah, mi sono dimenticato la torcia di redstone. Devo farmi... Quella fottutissima torcia di redstone. Allora, eh... C'è uno stecchetto? Che culo, uno giusto. Ok, vai. ora è più epico allora lo smette di registrare non provare a cliccare per smette di registrare perché sennò robin morirai no non dobbiamo ancora metterla vale dobbiamo mettere prima di tutto il pistone appiccicoso poi blocco di diamante torcia di redstone attivati ok abbiamo fatto questa cosa aspettate ragazzi tolgo il rumore troppo forte ok avevo fatto pure il video se non mi ricordo allora la terra dov'è che ce l'ho la terra devo andare a prendere a casa mia ah vabbè ma chi se ne prendiamo qui ok abbiamo due di terra e ora vala la magia se funziona eh se funziona diventerò il più ricco del mondo oh cazzo ha fatto un'alaga da pazzesco dopo questo l'alaga io direi di giustare un po' l'impostazione si in effetti no il blocco il mio blocco di ah nottivo sta laggando come un porco quanto quanti fps sono oddio solo quattro se non abbastanza di altre piene che tu usi più o più che tu ti chiesti clicca essa dovrebbe funzionare no le impostazioni aggiusta mette la visuale al minimo allora questo non è normale niente musica difficoltà facile allora impostazioni del video grafica sofisticata no metti un po' meno grafica aspetta veloce sofisticato veloce no 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 allora rendering normale no corto prestazioni bilanciate visuelle oscillante luminosità diminuiamo un po' 50% allora diminuzione dimensione 3d anaglifico off particelle tutte no ridotte schermo intero off pagati grafici del server on abilità nuvole off adesso penso che laghi di meno si lagga leggermente di meno ragazzi perché infatti ho avuto tonna che palle ce la posso fare raga no non ce la posso fare robino mi si sta scricando prendi il collegatore robin dai collegalo per favore tu da questa parte alla spina e io invece di qua così lo salveremo per la registrazione per il popolo dai godi popolo allora dovrebbe iniziare a caricare ecco no che palle il trucco l'ultima volta è funzionato invece no non ce la posso fare madonna devo metterlo lì che io conosco il trucco il bello che non sta funzionando dal che ma tecnicamente sarebbe impossibile per manca si il cubo rimane sempre attaccato al pistone tecnicamente no tecnicamente no madonna mi ricordo ho fatto pure il video ma che palle dovrebbe funzionare quello della produzione dei diamanti che in breve piazzo il cubetto di terra qui sì ne ho due ora no visto ne ho due ora ho due cubi di diamante direi bando oh io l'avevo mostrato in un episodio dai sì tre dai facciamo anche l'ultimo sembra che ci riuscire allora diamo un po' più di spazio così non lo faremo ah madonna mettiti per il potere di osiride mettiti faccio seee ora mi resta l'ultimo ecco ne uno in più vabbè chi se ne vabbè ora stoppiamo il meccanismo oh il meccanismo io direi di spegnerlo lo lasciamo così però per bellezza ah molto bello lo lasciamo per bellezza se ne vorremmo dell'altro o se ne vorremmo altri diamanti visto che il bug funziona mamma toh guarda quanti cubi ce ne avevo uno adesso ero quattro sono giusto what the fuck ahah gli altri sono comparsi nooo erano dei cubi di diamante così carini oh mamma perchè sta venendo notte perchè quando mi sono avvicinato qui è venuto più buio ok dopo questo grandissimo fail direi di più della puntata stupido fruttare di diamante fasullo ti odio è stato bello finchè ha durato anni adesso mi serve un cartello mi serve un tantissimo cartello scusate se lo ragazzi mi potete prestare un cartello non so se siete gentili non con me però ho bisogno di un cartello ecco il nome che si metta quella cosa non la voglio più nemmeno dare il nome cioè no aspetta adesso gli sto dando un nome ok gli do il nome che si merita la macchina fail ok questo si metta cosa stupenda certo e di qua serra della felicità della mi piace della felicità felicità infernale si intende non quell'altra io odio troppa felicità allora cosa devi crescere te e quindi direi che dopo questa failata possiamo chiudere dopo questa failata di merda per colpa di quella macchina aspetta perchè il cielo a volte viene scuro che cacchio ma cosa hai tolto il rendering si però non dovrebbe venire ad esempio a volte il cielo così scuro vedi vabbè dopo questi bug dopo questi epic fail io direi che possiamo concluderlo qui se il video vi è piaciuto lasciate un commento e un mi piace anche la pagina di facebook con il link sempre in descrizione se non siete iscritti bisogna iscriversi assolutamente noi ci vediamo al prossimo video bella ragazzi ciao